Come scrive un caro amico nel suo libro, per visitare Ragusa Ibla bisogna abbandonarsi e lasciarsi trasportare, accompagnare da una compagna di viaggio come la curiosità e perdersi volutamente nel cuore dell'antica città. Ragusa Ibla, come una nobile donna, aspetta i suoi visitatori vestita con un abito elegante e i suoi gioielli, che sono le sue oltre 50 chiese e i suoi splendidi palazzi, magnificenze del barocco siciliano. Andiamo a scoprirla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.